Cosa mi consigli di fare per non rischiare? È la domanda che nessun avvocato commercialista vorrebbe sentirsi chiedere dal proprio cliente. È molto più facile, infatti, distinguere cosa è lecito dall'illecito che trovare una via di fuga a metà tra i due confini. Un po' come chiedere al medico se due sigarette al giorno fanno male. Specie in materia fiscale, poi, teoria e pratica sono cose talmente diverse da non riuscirsi a mischiare neanche col solvente. Detto ciò, se uno volesse dire quali sono gli errori da evitare per non rischiare un accertamento fiscale, almeno sulla carta, li potrebbe identificare in otto precisi comportamenti. Gli otto comandamenti li potremmo chiamare. E di questo voglio parlarvi proprio oggi. Allacciate quindi le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori perché sono obbligati e... sigla! Pensate al vostro conto corrente come a una sorta di scatola trasparente dove ciò che fate può essere visto da chiunque. Se non siete giovane, avrete vissuto probabilmente negli anni in cui vigeva il cosiddetto segreto bancario. È roba passata ormai, non esiste più. Oggi la regola è quella opposta. Il conto corrente non è il vostro piccolo regno, ma un deposito condiviso con l'Agenzia delle Entrate, la quale non solo può prelevare direttamente senza autorizzazione del giudice quando vanta dei crediti e ve ne ha dato notizia con la cartella esattoriale, ma può anche sapere quanti soldi avete e come li state utilizzando. Grazie all'anagrafe dei conti correnti, infatti, non c'è più bisogno delle ispezioni, quelle cioè con la Guardia di Finanza che fa gli accessi in banca e requisisce i documenti. Oggi tutto si fa dal computer e si vedono prelievi, versamenti, cassette di sicurezza, titoli, depositi, libretti, tutto insomma. L'Agenzia non potrà mai chiedervi le ragioni di un prelievo, ma sui versamenti ha pieni poteri. Per ogni singolo deposito di contanti o bonifico ricevuto può chiedervi la giustificazione. Lo può fare per gli ultimi 5 anni e se non avete presentato la dichiarazione dei redditi, addirittura per gli ultimi 7 anni. Come fate a ricordare allora le ragioni di questo denaro? C'è la causale, penserete, sì, ma non è mica con una causale che uno si può giustificare in caso di accertamento fiscale. Servono documenti scritti. Se avete ricevuto un bonifico dovrete dimostrare di aver emesso una fattura o di aver ricevuto una donazione e senza un contratto registrato. Come lo dimostrate? Se avete ricevuto un risarcimento ci sarà l'estratto conto a dimostrare la provenienza dei soldi. Se avete vinto al gioco dovrete conservare le ricevute. Per fortuna quando si tratta di regali ricevuti dai familiari conviventi non c'è ragione di dare spiegazioni. Si presume che siano l'effetto dello spirito di solidarietà che lega i parenti più stretti e non invece il pagamento di prestazioni, anche se vostro padre vi ha dato la paghetta extra per avergli raso l'erba del campo. Ma dagli amici guardatevi bene. I loro regali potrebbero diventare i vostri peggiori nemici, almeno nei confronti del fisco. Ma torniamo agli errori da evitare per non rischiare un accertamento fiscale. Ecco tre importanti consigli. Non versate mai sul conto denaro di cui non potete dimostrare la provenienza o che vi è stato regalato informalmente, seppur in buona fede, ma senza un documento scritto. 2. Prelevate di tanto in tanto qualche somma dal vostro conto corrente. Grazie infatti al nuovo risparmiometro, l'agenzia delle entrate si accorge se a fine anno avete dei risparmi che non possono essere compatibili con il reddito percepito e le spese necessarie a vivere. Per esempio, se guadagnate 1000 euro al mese, come fate a trovarvi a fine anno con un deposito di 13.000 euro? Con cosa avete campato per tutto l'anno? 3. Non accettate bonifici dagli sconosciuti, salvo che siano regolari i clienti ai quali avete emesso fattura o altra pezza giustificativa, ad esempio la ricevuta di prestazione occasionale. Se avete una partita IVA, non aggiungetevi alla già copiosa fila dei furbetti che sperano di scaricarsi dalle tasse la cena con gli amici, l'acquisto del televisore o magari dell'orologio chiedendo la fattura. Troppe spese fanno insospettire il fisco. Non è tanto un discorso di inerenza all'attività commerciale, a che vi serve il televisore a 52 pollici se fate il dentista a intrattenere i clienti mentre aspettano. Il rischio è un controllo con il redditometro che si accorge che spese avete fatto. Se avete fatto del nero e magari con questi soldi volete acquistare qualcosa, fatevi rilasciare solo lo scontrino che è un documento anonimo, non invece la fattura. Peraltro se acquistate con la fattura la garanzia è solo di un anno, mentre senza fattura è di due anni, rientrate infatti nelle norme sulla tutela del consumatore. Se state facendo una spesa di grosso importo, come l'acquisto di un'auto, e un genitore vi sta aiutando, fatevi versare i soldi sul conto corrente o diversamente fateli accreditare direttamente sul conto del venditore facendo indicare nell'atto di vendita che l'acquisto viene fatto con denaro di un parente a titolo di donazione in vostro favore. Ciò vi metterà al riparo tanto dalle imposte sulla donazione quanto da un accertamento fiscale nel caso in cui la vostra dichiarazione dei redditi denunci una situazione patrimoniale tale da non potervi permettere questa sorta di acquisto di lusso. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui un familiare vi aiuti nelle spese quotidiane, come ad esempio nel pagamento delle bollette o del condominio. Dunque, per ritornare agli errori da evitare, per non rischiare un accertamento fiscale, ecco i miei consigli. Non fatevi mai dare regali di denaro in contanti, peraltro se superano 2000 euro il cash è vietato. Se acquistate un bene di russo, come un'auto o una casa, l'atto deve indicare che il denaro impiegato è il frutto di una donazione. Lo so, vorreste far vedere a tutti i vostri contatti di Instagram o Facebook che avete offerto alla vostra compagna una cena di russo o magari una vacanza in un resort a 5 stelle. Vorreste postare le foto della Cruciera ai Caraibi? Ma lo sapete che anche all'Agenzia delle Entrate hanno degli account social? No? Errore! Perché un accertamento fiscale può originare anche da un'immagine condivisa con i vostri follower, in cui vi si vede fare la vita da nababbo. Questo non vuol dire che dovete vestire col saio e sandali, ma non dovete apparire più ricchi di quello che siete o di quello che avete dichiarato di essere. Il poverello che non ha liquidità chiede soldi in prestito alla banca. Il poverello che non ha patrimoni e teme per il futuro dei suoi cari in caso di propria morte si fa un'assicurazione sulla vita. Ma se mutui e premi assicurativi hanno una rata troppo alta, la favola non regge più. E non sono pochi gli accertamenti fiscali intrapresi proprio per via dell'ingordiggia della gente. Alla fine, anche i soldi pagati periodicamente agli intermediari finanziari sono un indice di ricchezza e fanno scattare il redditometro. Quindi, ultimo consiglio che vi do per non rischiare un accertamento fiscale è fate tutto in proporzione alla vostra dichiarazione dei redditi. E sapete perché? Esatto, perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti.